Biceglie, terra di sospiri e della pasticceria Nelle lande prosperose della regione Puglia, tra il mare e il parco dell'Altamurgia, tra storia e leggende, sorge Biceglie, terra di sospiri e arti dolciari. Noti come custodi della tradizione, i più dell'Associazione Pasticcerie Storiche Bicegliesi tramandano l'antica arte pasticcera fatta di soli prodotti della nostra amata Puglia. Dalle cartellate alle sapienze, dai marzapani a sua maestà, il sospiro. La nostra squadra tramanda da secoli le ricette che hanno fatto grande la nostra tradizione enogastronomica locale. Una passione senza eguali che lega uomini e donne che esaltano il territorio bicegliese e regionale perché più forte di un lavoro buono fatto bene c'è la volontà di farlo per amore di cose verso la propria città, le persone che la compongono e rispetto per le materie prime che si adottano. Pronti a sostenere il progetto con una campagna di crowdfunding all'alleanza dei soci sostenitori fatto anche di agevolazioni e molte sorprese. La passione si gusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.